Buongiorno a tutti, ben ritrovati cari telespettatori e cari telespettatrici di Fano TV, canale 17 in diretta 7.45. Oggi è il 19 di marzo 2014 e neanche a dirlo oggi è la festa di San Giuseppe, oggi è la festa di tutti i papà, allora auguri, ma è anche San Giuseppe, oggi San Giuseppe sposo della Vergine, è il patrono dei padri, dei carpintieri, dei lavoratori, dei moribondi, degli economi e dei procuratori legali. Il sole è sorto alle 6.12 e tramonterà alle 18.19. Il tempo che farà oggi, cielo poco nuvoloso per la presenza di nubi basse al mattino in dissolvimento e transito di nubi alte e stratificate nel pomeriggio e temperature in lieve diminuzione per domani giovedì 20, poco nuvoloso per maggiori addensamenti nelle zone dell'entroterra nella mattinata in presenza di nuvolosità alta e stratificata. Per venerdì, venerdì 21, il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso con aumento della nuvolosità nella seconda parte della giornata, avremo precipitazioni nel pomeriggio, saranno precipitazioni deboli, diffuse nelle zone dell'entroterra e sparse altrove con esaurimento dei fenomeni durante la serata, le temperature in lieve aumento nei valori massimi. Cominciamo a leggere i giornali, tre quotidiani che troverete come sempre nell'edicole, il resto del Carlino, il messaggero e il Corriere Adriatico. In apertura, il resuconto di quello che è stata la giornata di ieri, ieri c'è stato un funerale a Saltara per dare l'ultimo saluto a Marco, Marco De Luca di 15 anni, scomparso tragicamente l'altro giorno in un frontale con il suo scooter e un'auto. Allora andiamo sul resto del Carlino, la pagina di Fano e Valle del Cesano. Marco sei stato un dono per tutti noi, struggente a Dio a Saltara, il 15enne morto in scooter, l'ultimo viaggio con gli scout. Le ultime parole di Marco, stiamo rientrando, a breve ci vediamo a Lucrezia, poi lo schianto contro l'Audi. Sempre su questo argomento, su questa notizia, il Corriere Adriatico, palloncini bianchi per l'addio a Marco, chiesa e piazzale strapieni per l'ultimo saluto allo scout di 15 anni, travolto da un'auto, i pensieri della cugina, di insegnanti e anche degli amici. Non ti vediamo, ma sei ancora con noi. Il messaggero di Pesero, decine di palloncini bianchi in cielo per l'addio a Marco, a Saltara Folla in lacrime ai funerali del 15enne. Il parroco chiede silenzio perché oggi ha detto persino Dio sta piangendo la sua morte. Cambiamo argomento, restiamo sul messaggero. Sgarbi, a Durbino, mai le scale mobili, si accende la battaglia per il sindaco e il critico esterna. Ancora contatti fra Lamuce e Londè, mentre Gambini attacca. No, siamo l'unica e vera coalizione. Andiamo sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico. La politica in apertura a Sanchioni scioglie la riserva. Ha deciso che correrà da solo. Confronto pieno di contenuti e di entusiasmo. Una scelta presa con grande convinzione. Mentre Giancarlo Danna venerdì presenterà alle 11 e mezzo del mattino il suo programma a Marina dei Cesari. La destra di Fano ha deciso che diserterà le elezioni. Margherita Campanella dice che con Danna ci hanno fatto sentire utili solamente quando c'era da difendere l'ospedale. La decisione è stata presa a maggioranza nonostante il segretario provinciale Sorcinelli fosse favorevole ad un apparentamento con fratelli d'Italia. La cronaca collisione sulla rampa d'accesso dell'A14. Cinque feriti nel frontale tra due automobili trasportati in ambulanza a Santa Croce in osservazione. Nessuno di loro comunque versa in gravi condizioni. Questa sera messa del Vescovo Trasarti in un capannone. Si tratta di quello della CM Autoriparatori Consorziati delle Marche che si trova a Bellocchi in via Ugola Malfa. La messa sarà in programma alle ore 21 ed è stata organizzata dalla CNA di Fano. Per quanto riguarda il Corriere Adriatico da Pesaro imminente il via per due corsie ciclabili. Sarà più facile arrivare in bicicletta alla stazione ferroviaria e all'ospedale San Salvatore. Un percorso strategico che permette di dare continuità al tratto di via Solferino. Andiamo sulla pagina di Fano invece del messaggero. Anche qui la politica in evidenza con Sanchioni che correrà da solo con la lista prima Fano. Sanchioni ha perso per strada una delle figure più esperte ovvero Giovanni Maiorano che ha deciso di tornare con Stefano Guzzi. È rimasta invece Oretta Ciancamerla come presidente. Intanto Maiorano appunto dicevo sceglie Guzzi mentre Ciccioli invita Carloni a riflettere bene sul da farsi. Una nuova farmacia alla stazione del treno a Fano aprirà al posto della sede distaccata dei vigili urbani. Sarà una nuova farmacia comunale che verrà aperta alla stazione ferroviaria e avrà come propria sede l'attuale ufficio della Polizia Municipale. Stasera il Consiglio Comunale voterà l'atto che ne attribuisce la gestione ad Aset Holding. Guardate questa fotografia. È il nuovo ponte che verrà costruito a giorni che dovrebbe essere ultimato per giugno 2014 quindi per l'inizio della stagione estiva. Il nuovo ponte che si apre sul Lido che collegherà il Lido con il Porto Canale quindi di conseguenza con la Sassonia. Il sopralluogo dell'assessore Falcioni e dei tecnici in questi giorni come dicevo l'opera hanno detto i tecnici sarà ultimata per il mese di giugno. Ancora dalla pagina di Fano del messaggero per parlarvi invece di un'altra emergenza, quella che di solito viene fuori quando c'è il maltempo, qualche pioggia più abbondante del solito senza stare a parlare di nubi fragili. È quella che riguarda l'emergenza delle fogne che riguarda via Pisacane. Via Pisacane è ancora a rischio, scrive il giornale, a rischio allagamenti nonostante le promesse di interventi per migliorare il deflusso delle acque piovane se ne discuterà questa sera in consiglio comunale sollecitato da un intervento urgente del capogruppo del Partito Democratico Cristian Fanesi. Andiamo a leggere, c'è un altro appuntamento che volevo segnalarvi sempre dalla pagina di Fano del messaggero, il magistrato Silvia Cecchi presente il libro al di là del carcere, oggi pomeriggio alle 16.30 nell'aula magna dell'Istituto Tecnico Commerciale Battisti di Fano. Ci sarà la presentazione di questo libro dal titolo Sulla pena al di là del carcere, edizione Liberi Libri. Ne parleranno Silvia Cecchi, magistrato, Paolo Bonetti filosofo, Mario Della Dora psicologo e psicoterapeuta. Ancora dalle pagine, adesso andiamo a aprire le pagine del resto del Carlino. Fano per San Giuseppe, Monsignore dice messa in fabbrica al centro di revisione CM di Bellocchi, il Vescovo Trasarti ha accettato l'invito della CNA alle ore 21, ma ricordo che il Vescovo per tutti gli altri, quelli che non riescono ad andare alle 21, celebrerà la messa a San Giuseppe al Porto alle ore 18. Sempre dal resto del Carlino la polemica su questo nuovo monumento che ricorda i caduti della Resistenza. Non serve a nulla questo nuovo documento, non lo dice una persona qualunque, lo dice niente meno che attraverso una lettera aperta al Comune e al Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, Maura Dini, che è la sorella di Giannetto Dini, il partigiano ucciso a Massa Lombarda insieme a Ferdinando Salvalai il primo aprile del 1944 e la signora Dini esprime il suo dissenso per questo monumento che l'Ampi di Fano intende realizzare per i 70 anni della liberazione della città. No alla costruzione di questo ulteriore monumento, sì invece alla ristrutturazione della tomba dei partigiani al cimitero centrale. Sempre da Fano, dal resto del Carlino, lotta dura contro il degrado, ma sul teatro romano vanno in scena due progetti, firmati Amadei Caverni Gori e Marcheggiani Mattioli. Sanchioni ribadisce, Sanchioni scusate, ridiscende in campo, correrà con la propria lista e così i candidati del centro-destra, pensate adesso sono cinque. Alla deriva in un mare di solitudine, parliamo del sub di 52 anni, Andrea Pandolfi, che è morto domenica mentre prendeva parte ad un'immersione con gli amici. Il sub sarà sepolto senza funerale. Alla deriva in un mare di solitudine, questo è il titolo, la decisione è stata presa da una cugina di Fabriano. Sarà sepolto a Fano, il corpo di questo sub giramondo di 52 anni, originario di Fabriano, ma che viveva da anni in città e viveva su una barca a vela. È morto domenica, lo abbiamo detto, a Capodacqua, provincia dell'Aquila, nessun funerale, le onoranze funebri riunite, che lo andranno a prelevare nell'obitorio abruzzese, lo condurranno direttamente al cimitero dell'Ulivo per la tumulazione. La cugina di Andrea Pandolfi, infatti Lucia, ha deciso così, dopo aver parlato anche con gli amici fanesi, di quel parente che lei stessa definisce speciale. Sempre dal resto del Carlino, a Fossombrone, variante al piano regolatore generale, battaglia dal nuovo centrodestra, il caso della metalli plastificati apre un fronte di polemiche, danno alle aziende. E adesso, per chiudere questa pagina, tutta pagina, addirittura una pagina intera di Urbino e provincia, il titolo è Fano Grosseto, poco europea, uno studente d'architettura, Tommaso Gentili, di 26 anni, ha analizzato tutti i documenti di questi progetti, ha passato al setaggio questi progetti. Al momento le vere cifre per la realizzazione sono tenute nascoste, dice, al di là di quello che noi diciamo, la Strabag potrà fare ciò che vuole, la società che poi dovrebbe realizzare questo progetto, questo tratto. Gentili, dicevo, questo ragazzo ha 26 anni, è studente di architettura a Firenze, ha una visione tecnica su questa vicenda e le sue osservazioni non sono mai marginali. E con un po' di pessimismo, eccolo qua, Gentili, ve lo faccio vedere, Tommaso Gentili, un po' di pessimismo dice, la strada rientra tra le infrastrutture dette di secondo livello e credo, secondo lui, che da Bruxelles non arriverà neanche un euro per noi. E con questo, sperando che questo giovane di belle speranze si sbagli, chiudiamo qui la nostra rassegna stampa, grazie per averci seguito, buona giornata a tutti, ci vediamo questa sera alle 20.30 con Occhio alla Notizia.